Guardate che questo è un tema abbastanza curioso, lo dico a chi ha posto questo tema. C'è un grande piano di vaccinazione? Bene. Diamo con grande trasparenza l'elenco del numero dei vaccinati ogni giorno? Anzi, io dico di più. Diamo un lascia passare, un certificato a chi si vaccina. Così come, lasciatemi dire, chi si è già beccato il Covid? In Italia c'è un milione e 400 mila di persone che si è preso il Covid. Molti di questi hanno un contenuto di anticorpi, non so se si dice contenuto, che è pazzesco, vedo che Bonifazio annuisce. Chi ha già preso il Covid e ha l'anticorpo, chi ha fatto il vaccino, per me deve muoversi, sempre mantenendo la mascherina, con tutte le regole, con un grado di libertà maggiore rispetto a me che, ad esempio, non ho preso il Covid e non ho fatto il vaccino. È più giusto. Quindi sono per parlare del piano di vaccinazione e sono per dire quotidianamente quante persone vengono vaccinate. Ma di fronte alla cifra che impegnerà i miei figli e i miei nipoti, che porta il debito al 160%, che segna il futuro delle nuove generazioni, posso rivendicare il diritto di parlarne o è l'esa maestà?